Dopo aver conquistato il cinturone WKF professionista battendo il 27enne materano Francesco Leonetti dello scorso luglio e con in bacheca i due titoli italiani di kickboxing, il giovane di San Pietro Altanagro Luigi Liguori stacca il biglietto per i mondiali di Praga del prossimo 10 e 15 novembre. A darne notizia è proprio la commissione tecnica WKF Italia che di fatto ha convocato Luigi Liguori e il coach Carmine Liguori a far parte della nazionale che rappresenterà l'Italia e i campionati mondiali di arti marziali. La comunicazione firmata da Italo Scrocchia e Salvatore Matera della WKF Italia è arrivata pochi giorni fa. La convocazione frutto di impegno e sacrificio ma soprattutto di risultati conquistati da Liguori testimonia il valore che ha assunto Luigi e il suo coach Carmine in questi ultimi mesi. Il campioncino salernitano aveva già partecipato lo scorso anno ai campionati italiani con la conquista del titolo Juniores, confermando la sua leadership anche nel 2014. Con la vittoria del cinturione WKF che gli è valso il titolo professionista, si punta ora a conquistare qualcosa di ancora più prestigioso come i mondiali.